Ciao, ci vediamo stasera! Sciocco da parte tua lasciare il telefono! Sono convinta che l'amante l'ha registrata con un nome di uomo. Ascanio, questo sicuramente è un nome inventato. Gli scrivo Ciao amore, ci vediamo stasera. Invia. Geometra, sono Ascanio, forse ha sbagliato numero. Bruno! Potrebbe essere Bruno, magari è Bruna, magari è Bruna di capelli. Gli scrivo Sono pazzo di te. Cuore, 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 invia. Cuore rosso, eh? D'altronde se mi chiamano la Jessica Fletcher del condominio ci sarà un perché. Sono tornato. Com'è andata al lavoro? A un certo punto, mentre l'ho chiuso in ufficio, ho aperto la porta a Bruno, un mio collega nuovo. È venuto lì, mi ha baciato in bocca e mi ha detto Anch'io! E è andato via. Muah. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.